Come è triste ci diverti questa lente, con le lacrime agli occhi e il cuore spezzato. Purtroppo ci restano solo quei bellissimi ricordi che lasciate in ognuno di noi. Ricordiamo tutte quelle giornate passate nella sala giochi a giocare a pigliato, le grandi serate di discoteca, l'ultima proprio di domenica e fa. E ne vogliamo parlare di tutte le ragazze che avevi, non sappiamo chi fosse la tua ragazza. Poi ricordo quelle partite di calcetto, fatte nel campetto della chiesa, ci volevano due pallone, uno per te e uno per la squadra, per chiedere il nostro malattolo. E chi dimentica a te, i tuoi schiocchi all'oreggio con lo schiaffo finale. Questa era una delle tue cose che facevano di te un grado di palle. Non immagini quanti vorremmo passare altre giornate con te, ma sopportanti. Ti raccomandiamo di non fare garantire, anche se per te sarà difficile. Fratelli, non possiamo starti vicino col colpo, noi lo saremo col cuore. Non sarà mai solo, perché lì con te ci danno il nostro angelo, a tutti gli uomini. Chi ti ho d'accordo è la mia sua braccia. L'assunità siamo qui, dall'assunità ci metterai, su di noi. E noi da qui continueremo a lottare, per non dimenticare, e non ci fermeremo mai, nel cuore e nella mente. Davide è sempre presente. Grazie a tutti.